di cosa dunque parliamo oggi oggi parliamo degli ebook interattivi e in particolare parliamo dell'utilizzo degli ebook che cosa sono come si utilizzano poi nel corso del nostro percorso ovviamente parleremo anche di come si creerà un ebook e alcuni workflow e tecniche per la produzione e la pubblicazione ma di questi aspetti non ce ne occupiamo oggi intanto ci dobbiamo chiedere se sappiamo tutti che cos'è un ebook un ebook è un libro digitale ma detto questo poi molti di voi avranno avuto anche occasione di leggere degli ebook detto questo noi non arriviamo a una conclusione perché perché mentre un libro è qualche cosa di che ha diciamo uno standard quindi ha delle pagine e si sfoglia e tutti i libri indipendentemente dal fatto che siano libri di fotografia romanzi o di carta patinata o carta riciclata tutti i libri hanno una struttura che è esattamente la stessa che poi si sfogliano da destra a sinistra o da sinistra a destra sia nel lingua araba o lingua italiana non cambia la struttura del libro tradizionale bene non è così per l'ebook quindi mentre noi con il termine libro possiamo indicare un oggetto riconoscibile in tutto il mondo dall'australia luganda alla sicilia lombardia brasile stati uniti con il termine ebook invece noi indichiamo un insieme vasto che comprende diversi oggetti per cui ci dobbiamo armare di un attimo di pazienza e considerare alcune questioni tecniche e cioè i formati degli ebook i formati degli ebook sono fondamentalmente questi e cioè il formato epub e il formato epub 3 il formato epub sarebbe anche in realtà definito come epub 2 perché ha avuto un'evoluzione ma nessuno lo chiama così la distinzione reale tra il formato epub e formato epub 3 che cos'è questo forma questo formato è attivo dal 1999 è un formato che consente che consente l'interoperabilità l'inter scambio la produzione la fruzione di ebook secondo delle specifiche che sono considerate standard ed è l'unico attenzione a quello che vi dico adesso il formato epub è l'unico formato standard degli ebook perfetto ma che cos'è un formato standard che cosa vuol dire formato standard formato standard vuol dire che c'è un consorzio internazionale l'international digital publishing forum che è composto da editori aziende informatiche sviluppatori scusate caspita sviluppatori che hanno interesse nel mercato degli della produzione di ebook e stiamo parlando ovviamente di tutti i principali attori sulla scena che compongono questo consorzio questo consorzio stabilisce quali sono le regole per definire un ebook come appartenente allo standard epub dunque è uno standard perché perché i principali attori sulla scena hanno definito le regole di produzione e di fruizione del dell'ebook nel formato epub viceversa il formato multi touch book che ha un formato proprietario di apple che adesso non esiste più è stato diciamo così sconfitto dalle regole del mercato e della fruizione di libri il mercato il il formato multi touch book 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 era un formato proprietario e specifico di apple il che non significa che non siano dei libri che funzionino bene e che abbiano avuto anche milioni di fruitori significa semplicemente che questo tipo di libri funziona solo su dispositivi apple e in particolare funziona meglio sui dispositivi mobili di apple però noi ci dobbiamo mettere una croce sopra questo formato perché questo formato non esiste più quindi facciamo così non esiste più da poco tempo tra l'altro cosa che io avevo già preannunciato avevo già discusso con dei dirigenti di apple anni fa dicendogli che spiegandogli che un formato che non avrebbe retto nel tempo e infatti non ha retto nel tempo quindi cassato poi abbiamo il formato invece mobi o kf8 che è un'evoluzione del mobi normalmente nessuno lo chiama mobi e men che meno c'è qualcuno che lo chiama kf8 lo chiamano in questo modo diciamo così i tecnici e gli sviluppatori chiaramente chi è un po dentro questo mondo perché è conosciuto come il formato kindle e qui tutti voi sapete che cos'è esattamente un kindle il kindle è un formato però proprietario mentre il multi touch book apparteneva ad apple il formato mobi kf8 o volgarmente chiamato kindle appartiene ad amazon però con una differenza rispetto al multi touch book e la differenza è questa io adesso sto usando un computer mac quindi non è un kindle e però posso aprire un'applicazione che si chiama kindle e possa all'interno di questa applicazione che è una reader cioè un lettore possa all'interno di questa applicazione visualizzare i documenti i libri che io ho ho acquisito tramite amazon e quindi che sono all'interno anche del mio kindle cioè che sono anche all'interno del mio dispositivo di lettura che amazon mi fornisce quindi amazon fa una politica particolare cioè fa una politica di distribuzione dei suoi libri su tutti i dispositivi quindi computer windows computer macintosh dispositivi android e ipad cellulari attraverso il reader cioè l'applicazione di lettura che si chiama kindle ma è questo non vi deve ingannare cioè non deve ingannare il fatto che i libri possono essere letti da qualsiasi dispositivo perché non è questo che fa di un formato un formato standard il mobi il kf8 cioè il kindle resta un formato proprietario questo significa che per esempio nel momento in cui io pubblico un libro dato che qua ci sono dei fotografi mi rivolgo anche direttamente a loro nel momento in cui io pubblico un libro di fotografie questo libro voglio che sia interattivo per esempio che contenga che contenga che contenga dei giochi che contenga degli elementi di gamification se vogliamo anche semplicemente che contenga al suo interno delle gallerie di immagini come queste bene all'interno di un libro kindle non lo posso fare perché il formato kindle è un formato che limita la distribuzione dei libri a una determinata composizione e questa composizione è molto limitata poi abbiamo le web app cioè vi può capitare che voi navigando in internet vi imbattiate in una cosa di questo genere cioè in una specie di rappresentazione grafica di un libro che potete sfogliare con il mouse o se lo state facendo dal vostro tablet lo sfogliate con un dito bene e questi sono delle simulazioni di libri che sono sviluppate normalmente attraverso delle web app secondo un formato che è standard perché normalmente salvo ovviamente delle eccezioni sempre possibili questo formato è rappresentato dall'html 5 l'html 5 è un codice di programmazione che sta nel background delle pagine internet e che consente anche l'applicazione e la rappresentazione di contenuti non solo di tipo multimediale ma addirittura interattivo adesso che abbiamo concluso diciamo questa prima carrellata e con l'html 5 ritorniamo al punto di partenza perché perché tra l'ipub e l'ipub 3 l'ipub standard e le web app l'html 5 c'è un legame il legame consiste nel fatto che il formato ipub è quello che voi consultate che voi utilizzate quando normalmente leggete per esempio un romanzo cioè un ebook semplice lo definiamo a impatto testuale poi lo vedremo meglio mentre l'ipub 3 invece è un formato molto evoluto che consente di fare un sacco di cose particolari bene l'ipub e l'ipub 3 hanno a che fare con un linguaggio che è molto simile all'html 5 anzi l'ipub 3 in particolare si basa sulla struttura dell'html 5 che viene incapsulato in quello che viene chiamato xml cioè un markup language che consente poi al reader di fare il parsing del codice che con quale il libro è stato sviluppato parsing significa che il reader interpreterà ovviamente il codice voi dite ma perché vi parlo di queste cose così tecniche ve ne parlo perché voi dovrete capire un problema che si presenta al lettore il quale non capisce per quale motivo si presenta ma voi ma io vi fornisco le basi diciamo così tecniche nel senso che ovviamente non vi insegno a programmare ma vi insegno però a riconoscere le problematiche da dove possono essere originate quindi diciamo c'è un legame però l'html 5 attraverso le web app che mostrano dei libri che si sfogliano in questo modo fanno parte della rappresentazione grafica del web quindi non sono considerati dei veri ebook a tutti gli effetti anche perché poi ti richiede la connessione per poterlo leggere e quindi non te lo puoi portare appresso dunque di tutto questo che cosa rimane rimane il fatto che l'unico formato standard riconosciuto universalmente e che funziona allo stesso identico modo su tutti i dispositivi è determinato dal consorzio dell'international digital publishing forum che produce i due formati attualmente in uso che sono l'ipub e l'ipub 3 poi abbiamo un altro formato che è universalmente riconosciuto che è il kindle ma non è un formato standard e presenta numerosissime limitazioni quali sono le caratteristiche dell'ipub l'ipub la prima principale caratteristica dell'ipub quindi stiamo parlando di che cosa di questo formato non stiamo parlando di pub 3 stiamo parlando di pub la prima caratteristica dell'ipub è che è un formato text reflow quindi ricordatevi questo termine e adesso vediamo che cosa vuol dire text reflow text reflow vuol dire che io apro un libro a una determinata pagina e poi posso utilizzare delle funzioni che il reader mi mette a disposizione di che reader stiamo parlando sono all'interno di un computer macintosh la il reader che sto utilizzando in questo momento si chiama libri che è un'applicazione specifica per la lettura di book che viene messa a disposizione gratuitamente da apple ed è integrata praticamente con il suo sistema operativo la stessa identica applicazione funziona sui dispositivi mobili come gli iphone e gli ipad altri oggetti altri strumenti hanno altri leader a disposizione che poi vedremo anzi vi consiglierò anche quali utilizzare però l'esempio che vi faccio adesso vale per tutti i dispositivi guardiamo queste due pagine e notate che qui c'è scritto pagina 13 e qui pagina 14 adesso io faccio questa semplice operazione attraverso la quale ingrandisco il testo è un'operazione che io faccio normalmente perché avete notato gli occhiali che porto quindi per me risulta molto difficile leggere i libri di carta sempre più complicato mentre mi trovo molto bene con i libri digitali uno di questi dei motivi è questo vedete come sono cambiati i numeri di pagina non siamo più a pagina 13 a pagina 14 massima pagina 20 a pagina 21 questa cosa è molto interessante perché se voi avete a che fare con degli studenti dei ragazzini voi potete dare a questi studenti il libro alla massima visualizzazione possibile tipo questa e poi spaventarli perché loro aprono il libro digitale e si trovano davanti a un testo di mille quattrocentosessanta pagine in realtà le pagine poi sono solo una trentina io lo faccio sempre questo scherzo ai miei studenti i quali io ma prof ma sono mille cinquecento pagine text reflow test reflow significa intanto notate che qui il libro è disposto su due pagine queste non sono due colonne sono due pagine perché ho uno schermo molto ampio e quindi che mi permette di leggere due pagine contemporaneamente ma in realtà ognuna di queste è una pagina una è una sola pagina text reflow che cosa significa significa anche un'altra cosa se volete segnarvela molto importante che gli ebook nel formato ipub sono a priorità di lettura attenzione attenzione priorità di lettura che cosa significa priorità di lettura significa che la formattazione del libro cioè il modo con cui il libro deve essere letto non è nelle mani dell'editore ma è nelle mani del lettore non è nelle mani dell'editore perché non è l'editore a determinare il layout grafico di pubblicazione di un ipub text reflow ma si limiterà a stabilire alcune regole ovviamente questo lo vedranno tutti in blu e la sottolineatura indica che è un link ma più di queste cose non potrà fare mentre il lettore lui decide invece tutta una serie di operazioni la prima l'abbiamo vista e riguarda la ampiezza del font ma non solo l'ampiezza del font anche per esempio può utilizzare un altro altri tipi di font che facilitano la lettura a secondo ovviamente degli stili o anche dei problemi cognitivi o anche nei confronti di ragazzi per esempio dislessi cio persone dislessi che anche come sono io tra l'altro che ho difficoltà proprio in questo senso non solo ma potete decidere anche la colorazione lo sfondo delle pagine quindi text reflow ha priorità di lettura vuol dire che è il lettore che decide come leggere il suo ebook quindi a differenza di un libro di carta i libri digitali nel formato ipub text reflow sono dei libri inclusivi mentre non possiamo dire la stessa cosa di un libro ovviamente di carta che cosa consente di fare un libro di questo genere un libro di questo genere consente di fare delle operazioni per esempio guardate ho qui un indice perfetto quindi abbiamo l'indice l'indice interattivo quindi raggiungo immediatamente la il punto che mi interessa poi faccio questa operazione sottolineo cioè evidenzio evidenzio nel colore che preferisco quindi posso stabilire che nel momento in cui leggo per conto mio posso stabilire che ho diverse colorazioni dell'evidenziazione in base agli argomenti che mi propongo di evidenziare posso stabilire che lavorando con un gruppo di ragazzi di studenti di clienti all'interno di una visita in un parco posso dare delle indicazioni distribuendo un ebook e chiedendo loro di sottolinearlo di evidenziarlo per argomenti poi che cosa faccio aggiungo una nota aggiungo una nota e guardate prendo copio questo testo proprio copio letteralmente poi aggiungo la nota apro questa nota e incollo il testo che ho appena copiato lui tra l'altro riproduce anche direttamente l'origine la fonte della citazione in questo caso non mi interessa poi faccio un'altra cosa per esempio mi recco a un altro capitolo voglio proprio andare un altro capitolo ecco per questo seleziono un altro paragrafo lo evidenzia magari con un colore diverso copio questa selezione torno indietro alla mia nota originaria apro e inserisco anche questa citazione perché perché poniamo io sto raccogliendo attraverso questo colore le citazioni fondamentali che hanno a che fare con un determinato argomento poi ritorno al capitolo successivo e posso anche creare un'altra nota gialla aggiungo nota dove scrivo un mio commento naturalmente posso aggiungere anche un commento personale a questa nota primaria che io ho creato per esempio qui potrei inserire un bel titolo di questa affermazione poi guardate che cosa faccio adesso adesso è venuto il momento di fare una bella ricerca su internet per quale motivo perché su un determinato tema tanto per citarne uno di cui non ci occupiamo per niente ho trovato un testo qualsiasi questo copio questo testo quindi ho svolto immediatamente una ricerca torno alla mia annotazione principale che era questa abbiamo già superata eccola qua e quindi in questa annotazione io inserisco la definizione di wikipedia ma ovviamente all'interno del libro io anche dei dizionari per cui posso fare visualizzare immediatamente dizionare enciclopedia all'interno del stesso libro selezionando singoli termini quindi che cosa ho fatto ho creato una nota che contiene i miei appunti personali contiene le citazioni del testo che ho selezionato e contiene anche altre citazioni e altri testi esterni al libro fantastico perché a questo punto con questa icona io posso visualizzare tutte le note che ho creato nei diversi capitoli poi seleziono le note che mi interessano e le posso copiare direttamente oppure più bello ancora mail mi invio a me stesso o al mio insegnante o ai miei studenti quindi le note che appaiono così ben impaginate e strutturate è ovvio che nessun libro di carta consente di fare questo naturalmente ed è per questo che parliamo di di alta inclusione quando noi parliamo di ebook e di libri digitali in genere però attenzione di ebook siamo all'interno di un ebook nel formato ipub text reflow domanda anche l'altro formato fondamentale che abbiamo visto molto diffuso benché non sia uno standard cioè il formato kindle noi lo possiamo considerare un formato text reflow inclusivo la risposta è sì perché le operazioni che noi abbiamo svolto qui possono essere tranquillamente svolte anche all'interno dell'applicazione kindle anzi posso anche dirvi una cosa interessante e cioè che il reader kindle quindi specifico per i formati kf8 insomma quelli di amazon consente anche una volta che voi avete selezionato il testo vi consente anche di leggere la traduzione di questo testo dunque è particolarmente interessante nel caso in cui voi usiate dei testi diciamo abbastanza semplici magari in lingua inglese che parlano di cose che voi conoscete ma appunto lo fanno in lingua inglese lingua che magari non conoscete ma voi attraverso queste traduzioni che naturalmente non sono perfette però avete sicuramente una buona base sulla quale partire per la comprensione di questo testo e quindi vi immaginate tutti i tipi di lavori che voi potete fare a scuola all'interno dei vostri parchi nella formazione aziendale con le persone con le quali lavorate all'interno dei vostri gruppi grazie ai formati dei libri digitali però dobbiamo fare una precisazione la precisazione è questa io vi ho parlato di un ho utilizzato un termine che magari a voi potrebbe essere sembrato strano che è il termine reader che cos'è un reader il reader è l'applicazione di lettura in questo caso libri oppure come abbiamo visto prima il kindle di amazon che è disponibile vi ho detto anche su vari dispositivi bene questi sono due reader i reader hanno questa particolarità i reader hanno la particolarità di fare il parsing dell'ebook il parsing dell'ebook che cos'è il parsing dell'ebook? il parsing dell'ebook è il fatto che il reader deve interpretare il codice attraverso il quale il libro è stato scritto perché l'autore scrive così scrive all'interno di una rete nella quale si ritrova sempre eccetera eccetera ma quando poi si trasforma il testo in un ebook beh si usa un codice di programmazione ovviamente lo si fa in un modo molto semplice e questo ve lo spiegheremo poi la settimana prossima o quella successiva ma in ogni caso il prodotto ha a che fare con dei codici di programmazione informatica bene il reader deve interpretare questi codici e allora qui abbiamo la brutta notizia la brutta notizia è che i reader non rispettano tutti gli standard completi del consorzio dove l'abbiamo messo? del consorzio dell'International Digital Publishing Forum oppure rispettano completamente il consorzio però se il consorzio si riunisce nel mese di settembre e decide di ampliare l'offerta del formato introducendo delle novità non è detto che gli sviluppatori di questi reader si adeguino così rapidamente e quindi noi potremmo avere in certi casi delle difficoltà di lettura per questo motivo io vi consiglio di utilizzare i reader standard cioè i reader anche più diffusi che sono tre sono il reader di Apple se avete un dispositivo Apple se avete un dispositivo Apple usate libri non avete bisogno di nient'altro tranne che ovviamente del Kindle nel caso in cui acquistiate i libri tramite Kindle perché? perché il Kindle è un proprietà un formato proprietario e voi non potete prendere un libro Kindle e trasferirlo in un reader Apple perché la cosa non funziona poi vi consiglio di utilizzare quindi il Kindle per quanto riguarda la lettura dei libri Kindle e vi consiglio di utilizzare l'applicazione di lettura cioè il reader che si chiama scrivetelo pure Adobe Digital Edition Adobe Digital Edition è il miglior reader multipiattaforma oggi presente sul mercato per la lettura di libri nel formato EPUB 3 e funziona con tutti i dispositivi quindi quale che sia lo strumento che voi utilizzate avete a disposizione fondamentalmente due reader o il Libri e il Kindle o l'Adobe Digital Edition e il Kindle eccolo qua Adobe Digital Edition basta non avete bisogno di altro sconsiglio l'utilizzo di Calibre che è un'applicazione che viene molto diffusa perché non è compatibile con l'EPUB 3 non è compatibile completamente con il KS8 e il Kindle e quindi non converte in modo corretto i libri pur essendo un'applicazione molto diffusa però ne sconsiglio assolutamente l'utilizzo per un uso anche diciamo sistematico e un'organizzazione della vostra libreria quindi nella sostanza voi utilizzerete sempre due reader uno che si riferisce al mondo Amazon e un altro si riferisce al mondo EPUB e basta perché questi due sono diciamo gli elementi fondamentali EPUB 3 e adesso andiamo avanti vediamo le caratteristiche dell'EPUB 3 che sarebbe questo se vi ricordate siamo sempre all'interno del consorzio International Digital Publishing Forum prima abbiamo visto l'EPUB classico l'EPUB classico attraverso un libro normale invece l'EPUB 3 è un libro che non è text reflow cioè vuol dire non è un libro a priorità di lettura è un libro a priorità di edizione quindi qui sì qui l'editore decide come impaginare il libro e quindi è un libro a impatto visuale allora abbiamo imparato un'altra cosa abbiamo imparato che il mondo dei libri digitali si divide in due si divide nei libri a impatto testuale che sono questi dove ovviamente possono anche essere pieni di fotografie ma sono impatto testuale perché chi comanda tutta la disposizione del libro è il testo oppure sono dei libri a impatto visuale perché ciò che comanda quello che comanda è la grafica è la grafica come per esempio in questo caso nel caso che vi ho fatto vedere prima e quindi non abbiamo possibilità possiamo copiare il testo eccetera ma non abbiamo possibilità di cambiare questa disposizione perché questa disposizione è la disposizione che viene chiamata in gergo il layout il layout che l'editore oppure l'autore se pubblica in proprio o il grafico che è insomma ha deciso di dimostrare di rappresentare quindi questo è il modo attraverso il quale il libro viene fruito perché questa cosa è utile per quale motivo? beh, perché evidentemente chi ha creato il libro vuole che l'estetica del libro abbia la priorità sulla, non so, per esempio sull'inclusione o su altre considerazioni e poi perché come avete visto voi cioè il libro può contenere ovviamente delle interazioni queste sono molto semplici molto elementari ma ce ne possono essere anche di molto complesse perché? perché il libro nel formato IPUB 3 qui abbiamo degli esempi così di schermate il libro IPUB 3 può contenere va bene audio e video ma questo lo contiene anche il libro text reflu ma può contenere anche per esempio funzioni matematiche giochi matematici può contenere javascript cioè può contenere applicazioni all'interno del libro stesso voi aprite un libro e fate un videogioco per esempio un videogioco di Gotham City perché l'applicazione è inserita proprio all'interno del libro e quindi poi tutta un'altra serie di caratteristiche però insomma penso che abbiate capito abbiamo detto che il multi-touchbook per invece che era il formato proprietario di Apple per i libri particolarmente interattivi è stato abbandonato e vi ho spiegato i motivi e poi dobbiamo dire stendere un velo pietoso su un formato che viene normalmente considerato come facente parte della categoria degli ebook ma che non ha nulla a che fare ripeto nulla a che fare con gli ebook ed è il formato PDF il formato PDF è un formato rivolto alla stampa e alla diffusione del web non è nato per la fruizione in lettura digitale non è nato per questo il PDF è una storia più che ventennale forse 25ennale se andiamo a vedere ed è nato dal fatto che gli impaginatori che dovevano che impaginavano una rivista o che impaginavano un libro o una pubblicazione quando si recavano al centro di stampa al service per la pubblicazione il service non aveva per esempio un determinato font come questo quindi bisognava che lo scaricasse lo comprasse glielo desse all'editore doveva avere un hard disk speciale un RIP che raccoglieva tutti i font non solo ma questo azzurro non veniva visualizzato esattamente nello stesso modo l'impaginazione non era esattamente quella che appariva bisognava lavorarci su allora l'Adobe che è entrata nel mercato dell'impaginazione per prendere il posto di Quark Express che era il principale la principale applicazione per l'impaginazione io a quel tempo facevo pensate i primi corsi per tenevo i primi corsi per gli editori su appunto queste applicazioni Quark Express InDesign e così via l'Adobe è entrata in questo mercato e con un formato che si chiama PDF questo formato serviva per mettere in contatto l'editore cioè l'impaginatore il grafico con il service di stampa in modo tale che l'impaginatore non portasse il file sorgente ma consegnasse il PDF il PDF conteneva tutte le informazioni necessarie affinché la macchina da stampa potesse interpretarle correttamente e si avesse una visione che corrispondeva a quello che il monitor dell'impaginatore gli rappresentava anche dal punto di vista dei colori dei fonti e tutto il resto quindi come vedete il formato PDF è nato molto prima della creazione della diffusione di libri digitali poi siccome è molto pratico e tutte le applicazioni di scrittura possono creare un PDF che cosa succede? succede che Massimo Urso Flavia Caironi Ronora Gonfalonieri tanto per citare tre di voi che ho qua sotto gli occhi scrivono il loro testo poi fanno tac salva come PDF e lo mandano perfetto però il PDF per leggere bene un PDF è un grosso problema voi dovete continuamente scorrere su e giù dovete avere i reader giusti per cercare di aumentare l'ampiezza dei font perché? perché il formato PDF è a priorità di è un layout visivo quindi a priorità di immagine non a priorità testuale dunque può andare bene per un flyer per un poster può andare bene per una comunicazione semplice ma certamente non per un libro di 200 pagine perché diventate cretini a leggere questo libro per cui la produzione di ebook è fondamentalmente orientata a questi due formati l'e-pub e il mobi ecco ebook a impatto visuale questo è un altro ebook molto carino può contenere oggetti addirittura coding se abbiamo il tempo adesso non so come siamo organizzati nel nostro percorso ma sicuramente mi piacerebbe organizzare un mini web anzi due mini webinar distinti uno per la creazione di ebook a impatto testuale e uno per la creazione di ebook a impatto visuale mentre sono in grado di spiegarvi in meno di un'ora come si crea un ebook a impatto visuale abbiamo più problemi per quello cioè a impatto testuale abbiamo più problemi per quello a impatto visuale però sicuramente vi possiamo dare le indicazioni delle migliori applicazioni per fare questo qualche dritta in modo tale che voi poi possiate eventualmente chi fra di voi ha un interesse sto dicendo in questo campo può fare come si acquista e si conserva un ebook beh un ebook si acquista negli store negli store che vendono ebook uno dei principali store è amazon chiaramente ma vende solo amazon vende esclusivamente i libri nel suo formato proprietario altrimenti il migliore store per acquistare libri uno dei migliori per acquistare libri si chiama streetlib come funziona streetlib streetlib funziona in questo modo quando voi digitate store.streetlib.com ripeto store.streetlib.com potete svolgere delle ricerche chiaramente ma quando acquistate un libro quindi fate così acquista il libro quindi scaricalo come e-pub quindi viene chiesto di inserire la vostra mail perfetto selezionate semplicemente il vostro paese perché è uno store internazionale procedi all'acquisto in questo caso è gratuito quindi non avete niente da fare acquista e quindi a questo punto voi potete scaricare il libro bene però in realtà attraverso la funzione i miei download che sarebbero i tuoi download ma siccome sono io ecco entrate con il vostro e-d e qui avete l'elenco di tutti i libri che sono stati scaricati in qui ci sono addirittura 32 pagine di libri scaricati che ho acquistati eccetera perché è importante questo elenco è importante per una funzione incredibile che hanno gli e-book e che è uno dei motivi per i quali gli editori tutti gli editori boicottano il mondo dei libri digitali ed è questo quando io sono all'interno del mio reader mi arrivano le notifiche che mi dicono guarda che Alberto Piano ha aggiornato il suo e-book e quindi tu puoi scaricare l'aggiornamento e per scaricare l'aggiornamento io non devo pagare niente e questa è una cosa fantastica perché cambia completamente tutto tutte le regole del gioco cambia le regole del gioco del rapporto fra autore e lettore cambia le regole del gioco del rapporto fra autore ed editore cambia le regole del gioco fra i lettori e gli editori ma questo è precisamente uno dei motivi per i quali voi non siete informati delle cose che io oggi vi ho spiegato perché o ve le siete andati a cercare o nessuno ve le spiega e specialmente non ve le spiegano gli editori i quali sono sì costretti a pubblicare degli e-book perché il mercato si è aperto in questa direzione ma non è lo strumento che loro vogliono sostenere perché perché se io aggiorno il libro tra un anno aggiungo un paio di capitoli ne metto a posto altri perché anche le applicazioni di cui parlo le cose di cui parlo hanno un'evoluzione l'editore stampa una nuova edizione e ti costringe a spendere altre 25-30 euro per ricomprare il libro che io ti vendo a 11 euro e che resta a te per sempre e riceverai per sempre tutte le modifiche e gli aggiornamenti di questo libro e te li potrai portare appresso detto questo i DRM ci sono dei libri che hanno DRM che vuol dire che sono dei sistemi di protezione della copia ormai sono desueti li hanno abbandonati un po' tutti tranne il il Kindle di Amazon e tranne naturalmente i grandi editori che si ostinano a imprimere gli DRM sui loro ebook il DRM non ti consente di dare la mia copia di un libro che ho comprato a Massimo per dire io compro il libro di Alberto Pian e poi ne do una copia da leggere a Massimo che è una cosa che succede normalmente con i libri di carta si compra un romanzo e si legge in famiglia in sei persone non c'è nulla di male perché questo diffonde l'uso del libro e poi Massimo che poi è una persona onesta dirà cacchio questo libro è veramente figo alla fine lo compro perché è giusto che un autore venga retribuito oltretutto un autore che non passa da un editore e quindi diciamo gli facciamo proprio un favore invece gli editori ragionano come ragionano ma se volete che io vi faccia una filippica contro il mondo editoriale non bastano autori di webinar per smontarlo tutto e lo posso dire anche da consulente editoriale per grandi marchi come Rizzoli come tanti altri da da fin dagli anni 90 e quindi conosco molto bene quello che succede lì dentro quindi parlo ragionveduta ma noi chiudiamo qui il nostro webinar perché tutto quello che vi volevo spiegare di essenziale l'ho spiegato e quindi interrompo la condivisione no e quindi è già interrotta la condivisione no interrompo la condivisione perfetto e quindi adesso abbiamo spazio per qualche domanda poi ci lasciamo osservazione o quello che volete lasciamo lo spazio poi occupatelo come desiderate scusa io ho una domanda proprio legata a tutte le operazioni che ci hai fatto vedere mentre apri un testo digitale quelle operazioni sono se non ho capito male fattibili se hai un reader specifico giusto? qualsiasi reader dei più importanti consente di svolgere queste operazioni non nel modo che vi ho fatto vedere perché ognuno lo fa in modo un po' diverso ma fondamentalmente sì quindi se ho un pc normale con un software non quello che hai esatto tu io posso applicare tutte le annotazioni tu usi adobe digital edition se usi windows tu scarichi adobe digital edition però non ti consiglio di leggere i libri allo schermo i libri si leggono sdraiati sul divano con un piccolo tablet e si leggono in tram mentre non puoi portarti il computer il computer non è lo strumento più indicato per leggere un libro esistono i dispositivi mobili addirittura io uso questo oggetto che non si vede facciamo così ecco io uso questo oggetto che è un ipad mini sembra grande perché la telecamera è mini quindi faccio così me lo metto proprio in tasca oppure lo metto nella tasca interna della giacca e questo è il mio principale strumento di lettura ho anche il kindle chiaramente ma il kindle non mi consente di leggere bene tutti quei libri che invece presentano immagini fotografiche interazioni così quindi preferisco la lettura attraverso l'ipad ok grazie prego comunque direi che a questo punto diventa indispensabile avere un altro momento in cui capiamo come possiamo diventare o perlomeno iniziare a diventare produttori certo anche per un motivo molto semplice che è questo nel momento in cui voi pubblicate per un editore avete due casi o pagate la pubblicazione come fanno i docenti universitari perché c'è la rincorsa a pubblicare per avere titoli ma loro pagano pagano Ericsson pagano Rizzoli pagano i vari editori quindi oppure oppure non pagano ma vengono pagati dalle case editrici ma vengono pagati con una percentuale che varia tra il 5 l'8 se sei proprio conosciuto se sei un grande così potresti prendere il 15% però in generale diciamo diciamo all'8% che è lo standard più o meno se tu pubblichi il tuo libro invece per conto tuo senza passare da un editore tu prendi il 60% del prezzo di copertina se tieni conto che l'editore le prime 400 copie le perde proprio ti scrive così sono andate perse ma faccia tosta incredibile perché perché le prime 400 copie di solito determinano il break even cioè il punto di pareggio della pubblicazione a stampa e di sfusione di un libro quindi lui si mette si mette in pace quindi a costo zero quindi le prime 400 copie non ti dai diritti te li calcola dopo cioè fai presto due conti e tu vedi che come autore presso un editore il tuo risultato è quasi nullo non solo ma tu non hai un rapporto con i tuoi lettori perché io pubblico un libro voi siete qui ci parliamo se scrivo cazzate me lo dite lo scrivete anche ma se io passo attraverso un editore il rapporto diretto è più complicato è più difficile e quindi il lettore stesso ha meno controllo nei confronti dell'autore non solo ma io appunto come vi dicevo difficoltà di scrittura quindi quando scrivo alla fine nonostante rilegga 50 volte lo faccia anche rileggere eccetera capita sempre qualche refuso bene ma allora Daniela mi scrive mi dice guarda che qui c'è una cosa siccome è un libro digitale io lo correggo lo ripubblico lei riscarica la copia corretta anzi magari Daniela mi dice guarda che questo capitolo qua è interessantissimo però hai scritto poco perché l'hai sviluppato poco io dico ma Daniela perché non mi sembrava una cosa così interessante no ma come ma scherzi allora mi metto lì e rimpolpo quel capitolo lì magari ci metto un mese o due però alla fine ripubblico la versione aggiornata e Daniela se la ritrova mando una mail a tutti i miei amici a tutti insomma come si dice follower ok e gli dico guarda che il libro è stato aggiornato chi l'ha comprato se lo scarica di nuovo gratuitamente cioè tutto questo non esiste nel rapporto autore-editore ho pubblicato un libro sul podcast e l'ultimo che ho pubblicato è stato per la terza nel 2009 sono stati adesso spengo la registrazione e l'ultimo